Mi chiamo Claudio Benza, sono nato nel lontano 1946 in una famiglia di origine siciliana, io sono nato a Trieste e qui ho svolto in pratica tutta la mia vita, tutta la mia attività, a parte diversi periodi che ho trascorso per motivi di ricerca in Spagna. Ecco, io ho conosciuto Umberto Tommasini nel 1968, subito dopo aver partecipato fino in fondo a questo movimento che ho vissuto in una maniera profondamente anti-autoritaria e da cui ho ricavato molti spunti per dopo diventare anarchico e aderire nel corso del tempo al gruppo anarchico Germia di Trieste. Sì, voglio dire qual è il mio ricordo, o ricordo tutt'ora vivo dopo tanti anni, dell'incontro internazionale che c'è stato a Venezia nel settembre 1984. È stato secondo me un momento magico, un momento unico anche nella storia dell'anarchismo, perlomeno per quanto io ne sappia in Europa, forse a prescindere dalla Spagna, perché non solo sono arrivati tantissimi compagni da tanti paesi, da decine di paesi diversi e quindi portavano delle esperienze, delle memorie, delle riflessioni e anche delle informazioni sulle loro attività che non era facile trovare. Quindi è stato un concentrato, ma un concentrato che aveva una specie di ordine interno tranquillo, cioè non ci sono state grosse tensioni pur nei dibattiti che qualche volta erano animati, perché i punti di vista tra anarchici spesso sono diversi e diversificati. Quello che io volevo ricordare, una prima cosa, è che si è giunti a questo punto così importante, che si può considerare una grande applicazione anche sia di un metodo, oltre che dei contenuti anarchici, grazie al lavoro soprattutto del Centro Studi Libertari, di cui voglio ricordare perlomeno Medo Bertolo, che non c'è più, e Rossella Di Leo, che continua nella sua attività, direi quasi inossidabile. Ma quel contributo che forse posso dare io, perché ho seguito di più questo settore delle presenze, è quella dei compagni jugoslavi. Si è trattato in sostanza di una nuova generazione di compagni che erano prevalentemente di impegno culturale anche loro, ruotavano attorno alla facoltà di sociologia di Zagabria e a quella di filosofia di Belgrado, oltre a compagni sparsi qua e là. Quindi non avevano a che fare con una generazione, anzi con quello che probabilmente non c'era più, dopo l'avvento del regime titoista, tutte le dissidenze, anche le dissidenze anarchiche, venivano messe a tacere più o meno brutalmente. Quindi solo nella metà degli anni 70 e successivamente è sorta questa nuova generazione, allora, di giovani. Hanno partecipato una decina di militanti e noi del gruppo Germine abbiamo trovato un appartamento dove tutti, o quasi tutti, potevano essere ospitati in condizioni quantomeno decenti. Questo perché avevamo ancora dei contatti che risalivano alla fine degli anni 60 con un movimento che si chiamava Venezia Viva di artigiani di impegno anarchico molto consistente e che avevano delle strutture per sostenere dei corsi di grafica a livello internazionale e quindi ospitando anche persone che venivano da paesi molto lontani. Allora ci sono stati vari interventi, diciamo, in diverse circostanze e in particolare nella sessione dedicata, logicamente, al comunismo di Stato. Cioè si trattava di verificare come l'idea comunista, egualitaria e di giustizia sociale veniva poi tramutata nell'esperienza statale in un'idea di nuova oppressione, in nuove gerarchie, in nuovi valori che erano assolutamente distanti dall'idea originale, appunto si può dire che era un'idea libertaria ed egualitaria che era l'idea comunista anche prima di Marx. Ebbene, quindi sono intervenuti Tribo Indic, un compagno filosofo di Belgrado, poi Oliver Kurtovich, un compagno che era metà studente e metà invece pescatore nella buona stagione, qui in Istria, di Zagabria, e Slobodan Draculic, che anche lui era appunto di Zagabria ed era il docente di filosofia anche dello stesso Oliver Kurtovich. Dopo ci sono anche altri compagni diciamo che non hanno magari preso la parola ufficialmente, ma che hanno partecipato sempre di origine jugoslava a questa grandissima esperienza. L'Ugo Slavia esisteva ancora nel 1984, tutti sanno che esisteva anche sullo sfondo ancora il Muro di Berlino e la grande potenza della Unione Sovietica e quindi il quadro era quello, bene o male, erede del cosiddetto clima di guerra fredda. La Jugoslavia non si era ancora frantumata. La Jugoslavia si frantuma con una guerra feroce, come tutti sappiamo, che sia civile, sia etnica e sia religiosa addirittura, tra le varie repubbliche o per così meglio dire tra le varie classi dirigenti che erano più o meno aderenti alla Lega dei Comunisti e che ufficialmente erano per la Jugoslavia, ma poi di fatto in pratica stavano costruendo un proprio Stato indipendente dove loro come classe dirigente burocratizzata ed autoritaria avrebbero potuto esercitare un potere molto maggiore. Forse un limite che si può riconoscere in questo appuntamento così importante riguarda proprio la scarsezza dell'attenzione dedicata al tema del nazionalismo e anche tra questi compagni appunto provenienti dalle Jugoslavia non sembrava che ci fosse questo problema. Invece con lo scoppio della guerra del 90, prima la piccola in Slovenia, poi il 91, più grande in Croazia, tra Croazia e Serbia, allora anche questo tema che sembrava superato, figuriamoci con l'internazionalismo degli anarchici, invece ha finito per anche separare e in pratica per quasi eliminare questa nuova generazione di compagni che erano presenti ed attivi all'appuntamento di Venezia. Grazie. 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 Grazie a tutti.